Mentre sul ponte tutto è ancora fermo, il fiume impetuoso delle carte bollate è in tumulto. Non si placano le polemiche a suon di ricorsi e contro ricorsi. Al di qua e al di là della riva ci sono il Comune e la Vardanega SRL. L'ultima mossa è dell'azienda di Possagno, che ha impugnato il provvedimento col quale il Tribunale di Vicenza rigettava il ricorso della stessa. Andiamo con ordine. Il Comune, che tre mesi fa oramai aveva comunicato all'impresa la rescissione del contratto per il restauro del ponte, chiedeva di poter incassare la polizza fideiussoria della reale mutua assicurazioni per oltre 453 mila euro. Vardanega si oppose all'istante, ma i giudici rigettarono il ricorso del trevigiano, perché, si legge, i lavori sembrano trovarsi a uno stato talmente arretrato che la fondatezza della pretesa creditoria dell'amministrazione appare francamente più che plausibile. Pena dunque anche il pagamento delle spese legali per la Vardanega, 8.500 euro. L'impresa però non sente ragioni e oggi si oppone e presenta nuovamente ricorso. Se di lavori al ponte dunque non se ne vedono, in compenso, le stanze del Palazzo di Giustizia si ingolfano di una saga che sembra non avere soluzione.